Insomma, noi siamo la noia! Negare ogni istante di allegria! E qual è il nostro obiettivo? Mantenere gli adulti seri e tristi, capo! E invece che cosa vedo io? Adulti che si divertono come bambini! E la colpa è tutta di... Cucciolone! Gelato in tre gusti! Morbido biscotto! Vignette! Pronto? È la noia? Sì! Cucciolone! No, ha la noia! Cucciolone!